Eccole! E allora non ci... non restano... Aspetta, 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 aspettate... Allora stavo dicendo... Basta, basta! Vi stancate troppo poi non ce la fate alla fine, eh! Allora stavo dicendo, questi telefoni corrispondono a una serie di annunci pubblicati sui giornali, d'accordo? Diciamo subito l'ondionello dell'altra settimana, era quando lo tocchi si colora, era la giraffa, quando lo tocchi si colora, era semplice la giraffa. Va bene? Allora passiamo subito al primo... Cos'è?